le stelle di azus le stelle di azus buongiorno amici buon venerdì a un passo dal weekend insieme al nostro amico azus per un altro appuntamento delle stelle di azus ovvero l'oroscopo quotidiano raccontato mattino dopo mattino per i nostri amici telespettatori per tutte le persone che invece ci seguono attraverso i canali internet di cartomanti europei a proposito nel frattempo www.cartomantieuropei.com noi partiamo dall'ariete voi nel frattempo date un'occhiata al nostro sito azus buongiorno si ciao pasquale buongiorno si l'ariete l'ariete che vi verrà una giornata positiva tutto sommato se dovete fare qualcosa firmare un contratto prendere un accordo avanzare una richiesta fatelo in mattinata perché sarete ascoltati dopodiché nel pomeriggio con questa luna che entra nel segno dei pesci tutto diventerà più complicato anche perché voi andate un po in confusione mentalmente e inizierete a pensare soprattutto agli affetti all'amore al vostro partner a quello che non vi soddisfa pienamente di un rapporto sentimentale quindi gli affari che possono andare a gonfie vele ma in mattinata se c'è qualcosa da fare fatelo il più presto possibile in serata poi avrete bisogno anche un po di isolarvi no di starvene magari proprio con il vostro partner per chiarire alcuni punti il toro per il toro giornata positiva un sole che inizia a prendere possesso del vostro segno sentite una bella carica no vitale beh questo vuol dire molto amici del toro perché ogni tanto voi siete anche un po pigri no quindi vi adagiate sulle cose non riuscite a trovare l'ottimismo l'entusiasmo per prendere delle iniziative lo farete invece in questa giornata soprattutto nel pomeriggio una bellissima luna nel segno dei pesci pone l'accento soprattutto sull'amore è un amore che sa darvi gioie incredibili ma anche il lavoro può riservare delle sorprese piacevoli a livello di chiamate a livello di proposte a livello anche di occasioni e poi gemelli per i gemelli giornata positiva tutto sommato c'è ancora una luna molto bella nel segno dell'acquario in avvio di giornata poi pian pianino accuserete un po di stanchezza allora la stanchezza è da mettere in preventivo in questo periodo in cui il sole alle vostre spalle e toglie un po di energia no c'è più che altro la voglia di riposarsi del resto pasquale aprile come si dice dolce dormire e per i gemelli questa cosa sarà particolarmente vera anche se tra qualche giorno arriverà qualcuno a scrollarvi proprio è di dosso questa stanchezza darvi proprio una strattonata ed è marte marte nel vostro segno porterà una grande energia soprattutto a livello nervoso non trascurate le amicizie che in questo momento possono regalarvi momenti di grande gioia quando arriva marte marte tra un paio di giorni ok cancro per il cancro giornata positiva bellissima luna in serata per l'amore romantica come piace a voi piena di effusioni piena anche di belle parole attenzione però alle parole soprattutto quando vi vengono fatte delle promesse perché c'è un mercurio in una posizione ambigua in ariete vicino ad urano qualcuno vi promette mari e monti magari per conquistarvi ecco lì dovete andarci un po con i piedi di piombo ma nelle storie quelle già consolidate quando avete a che fare con una persona di cui potete fidarvi ciecamente beh allora ci possono essere anche progetti ariete ariete ariete